e inventa un nuovo partito, è il primo partito popolare, il primo partito che nasce dopo il 1989 bisognava tener conto di quello che era accaduto nel mondo nell'89 e dunque non c'era più il partito comunista e dunque la democrazia cristiana è stata quello che era stato perché c'era il partito comunista è inutile nascondere perché c'era il partito comunista l'incompressione di Martino Azzoli con il suo carissimo fraterno amico che lo voleva alla segreteria nel 1989 Luigi Granelli era questo insomma, è successo che nell'89 il comunismo nel mondo non c'è più e quindi anche i comunisti italiani saranno costretti a cambiare, a cambiarsi e quindi lui deve inserire e inventa una missione per questo piccolo partito che era poi neanche piccolissimo, che era il partito popolare e inventa la missione appunto di costruire un partito che rigenerasse l'idea dell'Europa qui Bertroni può confermare non era così diffuso l'idea dell'europeismo federale nell'area del partito socialista europeo non lo era neppure nel 2000 nella conferenza intergovernativa di inizio del 2000 dove si decise l'allargamento a 28, a 27 senza avere riformato il trattato errore storico che ha prodotto tutto quello che è sotto i nostri occhi della crisi dell'Europa allora c'erano 12 paesi guidati da premier socialisti e non capirono questa cosa bene, allora Martinazzoli sentiva che c'era bisogno di un nucleo di un partito che utilizzando la propria tradizione europeista potesse rendere un servizio al dibattito politico in questo paese c'era bisogno di un partito che riproponesse quella idea dell'economia che è scritta nella nostra Costituzione ma insomma che poi a livello europeo verrà definita l'economia sociale di mercato io ricordo che il partito socialista europeo scoprì l'economia sociale di mercato parlò di economia sociale di mercato ma qualche anno dopo ricordo ancora ma soprattutto c'era bisogno di un partito che consentisse adesso che il comunismo non c'era più che aiutasse gli eredi di quella importantissima tradizione storica che gli aiutasse come dire a costruirsi una propria identità una propria cultura di governo nazionale era un partito che aveva una cultura di governo sperimentata soprattutto nelle regioni rosse ma non a livello nazionale c'era bisogno di accompagnare questo processo non c'erano le condizioni storiche come ha detto Veltroni per unirci intanto perché c'erano state le elezioni amministrative dell'anno prima che avevano gasato occhetto e gli avevano annebbiato anche una capacità di lettura della situazione storica insomma perché quella fu l'illusione della gioiosa macchina da guerra non ci fu mai una proposta di collaborazione sia chiaro non venne mai al partito popolare Martino Arzoli sarebbe stato in difficoltà perché lui riteneva di non poterlo fare sia chiaro per onestà però è anche giusto dire che non venne mai un'offerta di collaborazione perché c'era la presunzione di autosufficienza ma soprattutto perché Martino Arzoli aveva capito che dietro Berlusconi c'era un disegno in un qualche modo capace di interpretare una cosa che stava verificandosi nel mondo un'idea della politica assolutamente deideologizzata una politica un'idea della politica non mediata dai partiti tradizionali questo lo aveva capito quando lui dice nell'intervista a Minoli è stato un colloquio drammatico è stato un colloquio drammatico intanto perché lui tentò di dissuadere Berlusconi dicendogli che il mestiere dell'imprenditore non coincideva con il mestiere del politico e dice in che senso Berlusconi gli chiede non c'è questa possibilità ma perché l'imprenditore è abituato a fare gli affari propri ed è giusto il politico deve fare gli affari degli altri cioè di tutti i cittadini c'è una diversità di fondo ecco ma poi fu drammatica perché addirittura Berlusconi gli rivelò il suo disegno il suo disegno era anzi la sua richiesta alla democrazia cristiana Berlusconi c'è ancora fortunatamente e quindi sto dicendo delle cose che non rischiano la smentita gli disse bisogna che la democrazia cristiana non si presenti noi possiamo garantire a lei la candidatura in un collegio senatoriale perché ci sia un segno di assunzione anche di quella storia e quindi Martinazzoli capì che stava avvenendo qualche cosa di drammatico nel paese perché un conto combatte la democrazia cristiana aspetta scusa io non ho capito Berlusconi offrì a Martinazzoli un seggio senatoriale chiese alla democrazia cristiana che a Martinazzoli di garantire che non si presentava perché c'era un altro partito che occupava all'area di centro e offriva però solo a Martinazzoli cioè al capo di questo partito la possibilità di essere candidato e questa è la verità storica di quel colloquio drammatico ma Martinazzoli intuì che stava avvenendo qualche cosa di nuovo non arrivò a intuire il fenomeno del populismo così come si manifesta ai nostri giorni ma capì che nell'area c'era qualche cosa che cambiava i paradigmi della vita politica tradizionale ecco questo lo capì soprattutto perché ripeto nella sua scoperta di Moro c'è stata questa coltivazione di un senso storico di un fiuto della storia che risultò prezioso e che in un qualche modo fa di Martinazzoli non un produttore di aforismi soltanto ma un produttore di strategie politiche io rivendico ecco la capacità di delineare disegni politici il disegno possibile in quel momento sapendo appunto che ci sarebbe aspettato come paese un periodo piuttosto complicato perché per richiamare quello che diceva Walter Beltroni nel precedente intervento voglio citare un ultimo citazione in uno degli ultimi discorsi di Martinazzoli di Paul Valery ciò che è utile per gli uomini riguarda la profondità e la lentezza la politica si gioca purtroppo sulla superficie e sulla velocità questo è esattamente quello che ha detto Beltroni interpretando cogliendo il limite di quel tempo che Martinazzoli aveva denunciato ecco con questo che è un aforisma che è molto denso grazie grazie insomma io credo che sarei d'accordo con me nel dire che nulla neanche il più crudo realismo politico poteva condurre Martinazzoli a parlare con Berlusconi a intendersi con Berlusconi perché erano antropologicamente troppo distanti ho trovato nel discorso che fece sulla fiducia al governo Ciampi 93 Martinazzoli a un certo punto se la prende con quelli che lui chiama i redentori i quali diceva si autoassolvono ritengono così importante la loro missione che si autoassolvono dalla scomodità di redimere intanto loro stessi sono talmente presi dalla necessità di redimere gli altri che si dimenticano la necessità oggi è un periodo di tanti presunti redentori diciamo e dov'è la domanda? no ti la lascio libera diciamo sì sto un attimo alla ricostruzione che ha fatto Pierluigi con una sulla quale concordo con una sottolineatura che però l'operazione di Berlusconi fu un'operazione anche quella dal loro punto di vista di grandissima intelligenza perché Berlusconi vide un vuoto e decise di riempirlo e lo riempì portandosi via anche un pezzo consistente di democrazia cristiana perché una parte significativa della DC si schierò anche lì secondo me diciamo continuando a pensare che il mondo fosse quello di prima così come anche dall'altra parte qualcuno lo pensava però fu un'operazione dal punto di vista politico ben pensata ben studiata e con un'anticipazione di cose che noi vediamo oggi in un altro paese no stessi linguaggi stesse dinamiche stessi meccanismi fu un momento in cui tutto cambiò e io ricordo lo stupore di tutti quando a un certo punto cominciò a maturare l'ipotesi che Berlusconi scendesse in campo per usare l'espressione che lui usò essendo abituati al vecchio mondo appariva impossibile ma le cose stavano cambiando e Berlusconi interpretò questo cambiamento riuscendo da un lato a prendersi lo spazio che prima era stato occupato dai partiti che avevano governato l'Italia una parte di quello spazio al tempo stesso mise la Lega sotto la cosa durò poco perché poi la Lega scartò come ricordiamo nel giro di 12 mesi però per fronteggiare quella che nel 93 sembrava appunto un esito abbastanza scontato della crisi successiva allo scioglimento dei grandi partiti ebbe un'intuizione che fu un'intuizione dal loro punto di vista molto molto lucida alla quale il nostro mondo riuscì a corrispondere qualche anno dopo qualche anno dopo cioè è l'ulivo la prima risposta di tutto questo io non smetterò mai di ricordare un'altra delle persone che hanno fatto parte della tradizione della democrazia cristiana che è Gerardo Bianco il ruolo la funzione l'intelligenza e il senso del limite con il quale lui accompagnò questo processo di nascita di quell'esperienza che allora era per un partito come il Partito Popolare particolarmente difficile perché ricordiamoci che l'ulivo vinse anche grazie alla desistenza di rifondazione comunista non fu facile per il Partito Popolare scegliere una strada di questo genere ci fu l'intelligenza da parte del gruppo dirigente del PP e un po' da parte anche di tutti noi di capire che era arrivato il momento di costruire qualcosa che doveva ambire a conquistare una maggioranza possibile di voti poi qui si apre un discorso molto più complesso e molto più articolato sul fatto che diciamo le nostre culture emerse da quella stagione ciascuna colpita perché come ho detto la democrazia cristiana ebbe un'emorragia molto forte ma anche il PC trasformatosi a sua volta in PDS e poi in DS ebbe un'emorragia consistente come quelle due forze riuscissero a ricostruire ciò che avevano ciascuna in qualche misura avuto e cioè una capacità di rivolgersi alla maggioranza degli italiani o alla maggioranza del loro mondo in fondo la sfida di quella grande politica noi qui abbiamo citato tre figure ma ne potremmo citare delle altre anche per non dare la percezione di una sorta di esclusività di un racconto della storia politica italiana come fosse solo la storia di due grandi forze ci sono tante altre culture da quella di Giorgio Lamalfa e dei repubblicani a quella del socialismo del socialismo riformista che è stata una cosa importante nella storia italiana soprattutto in certi momenti penso al 56 quando il socialismo ebbe il coraggio di dire quello che il comunismo non ebbe il coraggio di dire anche il comunismo italiano che pure aveva una sua originalità rispetto a quello diciamo ideologico ecco quindi la ricchezza della politica italiana era anche fatta dell'autorevolezza e del prestigio dei suoi leader quando parlava Martino Azzoli o parlava la Malfa o parlavano altri in Parlamento si faceva silenzio e insomma anche noi siamo stati figli di una generazione nella quale il dibattito politico insomma faceva sì che in Parlamento in certi momenti si facesse silenzio per ascoltare delle parole delle parole no in fondo quelle che abbiamo sentito di Mino erano parole la politica è fatta di parole non credete mai a quella fesseria dice basta con le chiacchiere le chiacchiere se vogliamo usare l'espressione o le parole sono state il motore del mondo dalla rivolta degli schiavi in poi lo sono stati in tanti momenti e se il mondo è cambiato è perché attraverso le parole gli esseri umani hanno capito pensato e insieme conquistato diritti libertà e conquiste che prima erano immaginabili grazie alla forza delle parole quando le parole si spengono la politica si spegne con loro la politica è fatta naturalmente è ovvio dalla coerenza tra le parole e i fatti ma spesso i fatti vengono dopo le parole se Martin Luther King non avesse fatto quel discorso probabilmente non ci sarebbe stato Obama presidente degli Stati Uniti dico una cosa molto semplice la forza di quelle parole ha mosso milioni di esseri umani in tutte le parti del mondo se la Pira non avesse fatto i discorsi che faceva sulla pace probabilmente in Italia ci sarebbe stata meno cultura pacifista se De Lord non avesse fatto i discorsi sull'Europa potrei continuare c'è una capacità profetica delle parole la scelta la selezione delle parole la ricerca delle parole in politica è qualcosa che non è altro non è un esercizio di immagine è strettamente intrecciato al tipo di concezione della politica che si ha le parole possono essere inclusivo o esclusive le parole possono proporsi di emozionare le persone di agire sul loro cuore e sul loro cervello possono proporsi di agire sul loro fegato parole se io incito a distribuire le armi a tutti per rispondere ai problemi della sicurezza ho usato delle parole e mi sono rivolto a una rabbia a un sentimento a una paura le parole della politica possono agire sulla paura e sulle speranze possono trasformare le paure in speranze possono invocare la responsabilità io ho molto amato Carlo Zeglio Ciampi lo considero probabilmente una delle persone più importanti della storia dell'Italia del dopoguerra quando Carlo Ciampi parlava dell'Europa in consiglio dei ministri si faceva silenzio perché le sue parole erano figlie di una storia di una cultura di una tensione che poi avrebbe prodotto dei fatti allora torno al tema che per me è centrale appunto in questo tempo in cui la politica viene sbillaneggiata da chiunque anche soprattutto da quelli che fanno politica anche qui c'è una frase di Mino che tutte e due riportate diciamo le polemiche sulla partitocrazia sono fatti dai partiti che domani costituiranno la partitocrazia nel momento in cui la politica cosa c'è se non la politica a risolvere i problemi se non c'è la politica ci sono altri poteri del tutto sganciati da ogni forma di controllo e di partecipazione popolare o c'è la violenza o ci sono le armi non è che c'è altro io quando Roosevelt con l'Europa in fiamme si rivolse alle famiglie americane guardate che questa è una cosa gigantesca solo chi ha avuto responsabilità politica può capire che cosa significa dover fare un discorso di questo tipo quando Roosevelt disse alle famiglie americane che dovevano mandare i loro figli a combattere in Europa perché gli italiani i tedeschi e tutti gli altri si erano giocati ai dadi della demagogia la libertà perché si erano affidati all'uomo forte della provvidenza che doveva risolvere tutti i problemi e che aveva gettato l'Europa nella tragedia nel sangue nel dolore dei campi di concentramento e dei bombardamenti quando Roosevelt fece questo discorso e dovette dire a una mamma della Virginia manda tuo figlio a combattere a Dunkirk e ora magari lo si trova sotto le croci bianche che ci sono in Normandia ci voleva la forza della politica la forza l'autorevolezza il prestigio la credibilità la capacità di far capire che c'era un interesse più grande del più grande interesse che nella vita ci sia cioè tuo figlio mettere a disposizione tuo figlio per qualcosa che riguarda il destino dell'umanità chi può fare questo se non la politica quale computer può esercitare questa funzione quale diciamo strumento tecnico può assolvere a questo e far sì che quella morte non sia inutile ma sia capace di generare quella libertà in nome della quale è stata chiesta cose enormi la grandezza la bellezza della politica quella che ha cambiato il mondo quella che ci ha reso meno schiavi meno condizionati meno dipendenti meno imprigionati dentro logiche che ci negavano diritti la politica ha fatto tutto questo la politica ha fatto crescere le opportunità sociali ha fatto vivere meglio milioni di persone la politica lo ha fatto naturalmente la grande politica ma questo vale per tutto nella vita per tutto nella vita e costantemente noi siamo chiamati a combattere contro ciò che di peggio si genera anche nella dimensione più bella e più affascinante in fondo anche nella vita umana a un certo punto compaiono le malattie anche nella politica compaiono le malattie e su queste malattie Mino era molto severo e molto duro però non è che perché ci sono le malattie la vita umana fa schifo la vita umana è meravigliosa e una parte della vita è destinata a combattere le malattie a prevenirle a combatterle e la politica è uno strumento anche di rigenerazione di questo a condizione che abbia il respiro necessario la visione necessaria sia come Mino dice sia presbite cioè veda lontano non sia bruciata nell'istante nel quale le cose accadono perché poi vanno sui mezzi di comunicazione abbia soprattutto in questo momento abbia la forza di dire agli esseri umani guardate che c'è una soluzione che fuori dal tunnel c'è una luce perché se tutti abbiamo la sensazione è che la parte finale del tunnel sia ostruita dentro il tunnel si può scatenare l'inferno e logiche di sopravvivenza che possono essere molto pesanti la politica può buttare giù quella parete che oggi sembra esserci e che ci preclude il gusto del futuro per cui noi siamo come in uno spazio come dentro il tunnel non ci ricordiamo più che cosa c'era prima di entrarci nel tunnel e non abbiamo fiducia che ci sia una luce fuori dal tunnel per cui ci sembra di stare lì dentro e lì dentro inevitabilmente si finisce con l'homo homini lupus e questo credo che sia diciamo una delle grandi funzioni della politica uno dei grandi compiti della politica e Mino del quale oggi io l'ultima volta che l'ho visto l'ho visto qui era dove è oggi il sindaco in questo momento era lì era venuto ad ascoltare la presentazione di un romanzo chi glielo faceva fare aveva altro da fare aveva un'età che gli avrebbe consentito benissimo di risolvere tutto con una telefonata eppure era lì anche per quella mitezza Mino non era mica un compagnone cioè non era uno era uno anche tosto però aveva qualcosa di vero qualcosa di grande dentro e anche quando non era d'accordo con te te lo diceva anche in forma diretta lo apprezzavi io perlomeno lo apprezzavo per cui io posso dire che oggi Mino manca non solo alla politica e non solo a voi che lo avete conosciuto visto fino alla fine dei suoi giorni però manca a questo paese quest'anno se ne sono andati molti italiani fantastici Ciampi Scola Dario Fò Marco Parnella Umberto Eco Claudio Pavone potrei continuare se ne è andata se ne sta andando una generazione però le vite delle persone valgono se qualcuno le prende tra le sue braccia perché altrimenti la vita è così è sprecata allora le parole la memoria l'esperienza ciò che si è stati deve essere raccontata raccontata e noi stasera questo abbiamo cercato di fare grazie ci avviamo ormai ci avviamo ormai verso la conclusione con l'ultimo intervento di Paolo Corsini al quale vorrei chiedere mi piacerebbe che tu potessi inserire la figura di Mino Martinazzoli continuando un discorso che in realtà è già cominciato prima nella come dire nella radice lombarda del cattolicesimo lombardo hai qualche minuto mi rendo conto che è complesso però mi sembrerebbe una giusta una giusta conclusione di questa serata è un giusto omaggio a Brescia diciamo così con una piccola osservazione per dire a Walter che condivido tal punto la sua osservazione sul ruolo della parola che mi niva in mente che sta scritto che in principio era il verbo non è una cosa da poco non è una cosa da poco il cattolicesimo non si racconta ciò che aveva fatto Gesù diciamo le cose sarebbero andate in un altro modo molto diversamente ma prima nel cattolicesimo lombardo una piccola puntualizzazione sulla questione del centro e della scelta di Martinazzoli di non allearsi con la gioiosa macchina della guerra c'è il discorso del 22 gennaio del 1994 il 18 qualche giorno prima era stato pubblicato aveva presentato il manifesto del partito popolare interviene e dice io conosco la volontà egemonica dei comunisti e conosco la loro generosità di posti i comunisti sono molto più generosi di Berlusconi non è che offrono un seggio a Minio Martinazzoli e si dimenticano di altri Occhetto avrebbe proposto direi una remunerazione ben più consistente per Luigi solo che Mino non poteva accettare quella proposta per tante ragioni innanzitutto perché teneva qui torno al tema del cattolicesimo lombardo a partiti era che era a partiti